LIC! Ben ritrovati i miei cari vintori del Lusona Barcalcio e buona domenica anzitutto. Parliamo di calcio a mercato, parliamo di calcio a mercato del Bologna perché ci sono delle novità ulteriori. Difatti da quando abbiamo venduto, perché sì l'abbiamo venduto, non mi stancherò mai di ribadirlo, Andrea Scovolsen a Club Rouge, 7 milioni, più bonus, più percentuali di futura rivendita. Quindi ciao Scovolsen, ti auguriamo per il prosieguo di carriera, ogni bene ci mancherebbe altro. Ma per noi Scovolsen è fortunatamente passato e adesso bisogna avvolgere lo sguardo avanti. Dunque una volta ceduto lo Scovolsen, e l'abbiamo ceduto, Bigon e compagnia belle cantanti si stanno già appunto adoperando per andare sul mercato e cercare di dare a Mijailovic il vice De Silvestri perché ha venduto Scovolsen e adesso non ce l'abbiamo proprio. A meno che, a meno che non si voglia considerare quel gran bravo ragazzo di Ibrahim Mbaie ancora arrolabile. Ok? Tutto al più che ieri è già stato proclamato il nuovo presidente della Repubblica che quindi mette fine ai giochi perché si narrava di una corsa di quel bravo ragazzo appunto per tale carica. Dunque, per il momento abbiamo De Silvestri e Mbaie per la corsia di destra. E voi certamente capite, lo capisce persino la Riccarda che così non può andare. Dunque, c'era anzi il nome che era il primo della lista da quanto io sapevo, da quanto io sapessi appunto che era quello di Ramsai che era un, che è, perché c'è esiste ancora per carità, che è il terzino destro che gioca in Scozia dell'Aberden però, c'è un però, nel senso che l'offerta che il Bologna aveva fatto alla squadra scozzese non ha soddisfatto la dirigenza della squadra scozzese. Dunque è stata rimandata al mittente e il Bologna allora è andata al piano B. Piano B che non rappresentava Striegel Larsen ma rappresenta un giocatore che si chiama Denso Cassius che c'ha il Cassius bello denso, ok? Già il nome e tutto un programma ci piace molto il Cassius bello denso si chiama Denso Cassius non sto giocando con le parole, ok? C'ha proprio il Cassius denso c'ha proprio il Cassius denso non so per chi l'ha capita, non lo so, ok? Comunque è un giocatore anch'esso molto giovane, di età 19 anni che gioca in Olanda al Ficci Volendam, ok? Al Ficci Volendam gioca ed è di proprietà dell'Utrecht ed è in presito alla squadra appunto del Ficci Volendam che vado a vedere in diretta se gioca gioca in serie B olandese quindi Aridaje ci risiamo quindi dopo il Van Oidonk che è già stato anche lui non so se lo sapete sbolognato in presito a una società di prima divisione olandese l'Irinvin o Erenvin, non lo so comunque l'abbiamo già dato via dopo che in estate l'avevamo acquisito da una società di serie B olandese ci risiamo, andiamo a pescare nuovamente in serie B olandese e questa volta ci andiamo a pescare il terzino destro perché sembra ormai proprio in chiusura la trattativa che porterà il Cassius Denso il Denso Cassius qui a Bologna ok? ci sa già anche appunto l'operazione che avrà un costo complessivo Sinari si dice di 2.5 milioni di euro quindi il costo dell'operazione è di 2 milioni e mezzo e ovviamente quando si parla che il Bologna acquisisce un giovane ok? seppur in serie B olandese i giornali devono scrivere la concorrenza che si è battuta e io la voglio sottolineare occhio che il Cassius Denso è stato sgraffignato così si narra a società niente po' di meno che Roma ma soprattutto quando si parla di acquisizione di giovani del Bologna c'è sempre lui o non c'è lui? sì che c'è lui il Bayern di Monaco abbiamo soffiato un altro giocatore al Bayern di Monaco praticamente i bavaresi ok? i tifosi del Bayern di Monaco reputeranno il Bologna la loro bestia nera sul mercato perché sarà come minimo come minimo il secondo giocatore dopo Ikei che gli appunto sottraiamo da sotto il naso quindi dopo Ikei sembra che anche il Cassius Denso appunto sia stato sottratto alle grinfie del Bayern di Monaco oltre che della Roma ok? che in tempi non sospetti ci sgraffignarono loro i bagnes ricordiamolo sempre dunque ripetiamo Denso Cassius 19 anni quest'anno in B olandese ha fatto per il momento 21 presenze 5 retti 2 assist quindi io sono andato a vedere anche per curiosità sulle skills sulle skills di un video su Youtube appunto di Denso Cassius Skills video molto corto si vede che non sono riusciti a trovare delle skills superiori ai 2 minuti e mezzo di video comunque quello che ho visto è di un giocatore sicuramente che ha il motorino ai piedi nel senso che l'ho visto fare delle sgroppate partendo dal centrocampo ma anche dalla difesa per andare su tutta la linea in fondo a crossare o anche a penetrare lui stesso in aria per scoccare il tiro e fare addirittura gol che se uno si dovesse fermare a Denso Cassius Skills direbbe che abbiamo appena acquistato il nuovo Michael Sissenaido Douglas però qualche dubbio a me comunque sovviene anche perché nelle Denso Cassius Skills ci sono ben poche ben poche situazioni difensive che lo ritraggono a fare cose egregie non vorrei che ci sia appunto il contraltare della medaglia comunque un giocatore che sicuramente ha qualche dote quindi qui rientriamo in quello che Gasperini diceva quando acquisti un giovane deve avere almeno un grande talento ok e poi deve avere la centralina si spera che oltre al grande talento che Denso Cassius ha ok che sicuramente da quello che ho visto può averne si spera abbia anche la centralina dunque quello che a me lascia un pochino più che altro così ma è sempre lo stesso stesso discorso che noi andiamo sempre a beccare giocatori andra 21 giocatori che sono giovani giocatori che costano poco e che diamo a loro di stipendio ancora meno e bisognerebbe chiedersi è questa la maniera buona per cercare in tempi brevi di andare in Europa al posto Rilardo a sentenza anche perché non è questo il video ma sapete bene cosa ne pensi al riguardo che poi il Cassius Denso si possa rivelare essere un buon acquisto tipo alla Tomiauso tipo alla Teate o ci tocchiamo i maroni si possa rivelare un acquisto alla Scovolsen o alla Densville questo lo capiremo strada facendo fatto sta che Ramsey non arriva sembra che ormai sia fatta e chiusa l'operazione col Denso Cassius e appunto arriverà in città forse anche nelle prossime ore io penso domani farà le visite mediche e ci sarà la firma quindi questo è quanto per quanto riguarda il terzino destro per quanto riguarda altre notizie c'è l'alfiorentina che starebbe interessata appunto al Dominguez ok si narra che voglia far prevenire al Bologna un'offerta quindi ci sarà da tenere ben d'occhio anche quella situazione lì io penso che per adesso non se ne parlerà ma sicuramente a giugno potranno tornare alla carica anche forte del fatto dei denari dei danari che hanno raccolto dalla cessione del Vlaovic per cui adesso la Fiorentina è letteralmente scatenata perché dopo il Piontek dopo aver preso l'Artur Cabral che tra l'altro era un nome che io feci a suo tempo prima che ancora venisse fuori dalle notti ufficiali del Bologna come papabile per il Bologna è ad essere andata alla Fiorentina io penso che possa essere un buon innesto staremo a vedere che cosa sono andati a comprare io penso che il giocatore abbia delle grandi potenzialità ma soprattutto la Fiorentina sta andando anche su un'altra attaccante al Varzi un uruguaiano che è di belle speranze penso del Peñarol se non ricordo male che sta facendo fiotte di gol in Serie A uruguaiana insomma certamente non sta andando su profili alla Vanoidonc comunque nota polemica a parte questo è quanto miei cari avventori mi fermo a queste notizie che vi ho dato altre le daremo in altri video dico solamente che è ufficiale anche il passaggio di Cangiano ok nostro giovinastro indovinate dove se non lo vendiamo in Belgio lo vendiamo al Crotone quindi Cangiano è passato al Crotone quindi detta anche questa altre notizie per il momento non ce ne sono se non che la Gambia di Musabar è stato eliminato ieri sera in Coppa d'Africa e quindi Barro sta rientrando a Bologna e ci sarà dunque per la sfida contro l'Empoli il che vuol dire che stiamo anche recuperando pezzi che ultimamente ci sono venuti a mancare questo è quanto per il momento mi cari eventori fatemi sapere soprattutto cosa ne pensate del denso Cassius del Cassius denso mi viene anche qui la salivazione la sciallorrea a pensare al Cassius denso qua al Bologna fatemi sapere se anche a voi si esce un po' di sciallorrea a pensare a ciò attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui all'usura a bacaccio nei video e ci sentiamo nelle prossime chiacchiere da bar mamma mia il tenso Cassius